buon pomeriggio sera eccoci qua da marcus come promesso le tre ambate unificate su bari allora 16 45 62 il mio 16 il 45 del junkie 62 di maurizio allora colgo l'occasione per salutarli e colgo l'occasione che per salutare badessa e tutti coloro che ruotano e studiano nel gioco dell'otto benvenuti anche i nuovi iscritti allora il 16 protagonista a bari ma attenzione perché già anche mauri hanno dato anche il 45 62 il 45 62 è un loro ambo unico che giocheranno su bari e cagliari ma su bari l'aggiunta del mio 16 quindi 16 45 62 si prova l'ambo eterno secco ok o tutti insieme ambo eterno da poter unificare la previsione il 58 mi raccomando si porta avanti troppe somme 58 vi ripeto troppe condizioni che portano 58 a napoli il 58 a napoli con che cosa col 40 il 43 ormai vi stufo il 47 48 e 60 vi stuferò ma almeno avete in mente cosa poter giocare domani martedì 24 novembre allora andiamo a vedere le posizioni del famoso 16 a bari perché magari quelli nuovi non sanno di cosa sto parlando allora abbiamo visto che il 16 a bari presenta questa situazione veramente particolarmente regolare le posizioni interessantissime del 16 quarta e la seconda in parte la prima ambata contata va a finire in prima posizione non escludete la prima posizione ma la quarta e la seconda da caricare un po di più è come strato semplice se volete giocare solo l'ambata nient'altro da aggiungere vediamo domani sera e la prossima quindi la settimana entrante se finalmente sto 58 darà i suoi frutti mi avete chiesto anche visto che ambata contata va a finire su bari mi avete chiesto anche del 16 di venezia perché essendo la sua gemella quindi riflessa gemella andiamo a vedere quindi venezia io lo faccio per coloro che vorrebbero sapere qual è il 16 di venezia andremo a vedere adesso insieme perché io guardate non ho ancora guardato questo 16 di venezia per curiosità devo dire che comunque deve ha un buon allineamento è quindi anche il 16 di venezia guardate che è un bel allineamento allora poi abbiamo le posizioni in prima combinazione ambata contata la da in prima bari e guardate di riflesso prima a venezia terza guardate che belle prima e terza quindi chi vuol giocare anche il 16 di venezia questo un altro pronostico per venezia 16 di venezia prima e terza mentre invece quella di bari quella di bari 16 vedete 16 di bari quarta e seconda ritorniamo su venezia terza e prima quindi lo fate confusione con venezia e bari questa è quella di venezia terza e prima l'andamento di venezia questo qui e poi quello di bari e questo qui andiamo a vederlo subito così non ci incasiniamo è quarta e seconda ma lo sapete quarta e seconda e in parte la prima di bari buon intanto da aggiungere vi faccio gli auguri di una buona serata quindi passatevi al meglio questa serata e noi ci sentiamo domani o quanto prima possibile per altri aggiornamenti comunque questa è l'ambate sono le tre ambate unificate di me gianchi e maurizio per la ruota di bari e vi ripeto loro hanno l'ambo unico secco quindi su bari cagliari che su su bari in aggiunta il mio 16 da parte mia è tutto ci risentiamo domani ok un abbraccio a tutti sempre da marcus ciao grazie per l'attenzione ehi non dimenticati di iscriverti ma soprattutto attiva la campanellina perché facendo così potrai ricevere la notifica dei nuovi video grazie 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 grazie